Volkswagen punta la leadership nel mercato delle vendite. Nel 2011 l'utile netto è stato tre volte superiore a quello del 2010 e ricava in crescita del 25,6%. Ora l'obiettivo è produrre e vendere 10 milioni di vetture in tutto il mondo. L'espansione non riguarda solo la geografia ma anche la tipologia delle vetture come le utilitarie. Il costruttore tedesco nei primi due mesi del 2012 ha vantato un incremento delle consegne del 7,7%.